Sono Maurizio Biancarelli, volevo invitarvi all'Appennino Photo Festival e condurrò un workshop sui Monti Sibillini, workshop fotografico dedicato al paesaggio per cui fotograferemo la piana di Castelluccio di Norcia che in quei giorni è in piena fioritura estiva, ma ci sposteremo subito dopo nel cuore dei Monti Sibillini dove saremo di fronte ad uno paesaggio tra i più belli dell'Appennino centrale, fatto di creste affilate, di vallate spettacolari modellate dai ghiacciai del Quaternario e dove troveremo una flora ricca ed interessante. Se volete vivere un'esperienza straordinaria, se volete immergervi nella bellezza magica dei Monti della Sibilla e volete allo stesso tempo migliorare le vostre fotografie perché io sarò lì ad aiutarvi durante le riprese e farò anche un'analisi dettagliata delle foto che produrrete, dovete iscrivervi a questo workshop. Lo potete fare direttamente nel sito dell'Appennino Photo Festival e vi consiglio di farlo presto perché i posti sono limitati. A presto dunque!